Musica Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco benvenuto al custode di Terra Santa padre Francesco Pattoni grazie e bentrovati mercoledì giornata d'udienza generale nuova occasione per il Papa di fare un appello per la pace tra Israele e Palestina cominciamo dalle sue parole Continuo a seguire con molta preoccupazione e dolore il conflitto in Israele e in Palestina rinnovo il mio appello per un immediato cessato il fuoco umanitario si soffre tanto lì incoraggio tutte le parti coinvolte a riprendere i negoziati e chiedo a tutti di assumersi l'urgente impegno di far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza che è allo stremo e ne ha veramente bisogno si liberano subito tutti gli ostaggi che avevano visto una speranza nella tregua di qualche giorno fa e che questa grande sofferenza per gli irradiani e per i palestinesi finisca per favore non alle armi sì alla pace sono passati più di due mesi dall'inizio del conflitto siamo abituati ad ascoltare soprattutto le dichiarazioni dei leader delle diverse parti qual è lo stato d'animo della gente sia della gente israeliana che quella palestinese beh bisogna dire che l'attacco di Hamas del 7 ottobre alla popolazione civile e anche ai militari che stavano all'esterno della striscia di Gaza è stato uno shock per tutta la società israeliana e quell'attacco lì con i 1200 morti i 250 ostaggi ha fatto nascere un fortissimo desiderio di vendetta direi e un forte anche sentimento di odio sull'altro versante poi c'è stato questo trovarsi immediatamente sotto i bombardamenti e con l'incapacità anche direi di distinguere tra quelle che sono le responsabilità di Hamas e quella che è invece la popolazione civile di Gaza che sono circa 2 milioni e all'interno di questi anche la piccola comunità cristiana presente a Gaza che è di circa un migliaio di persone che adesso di fatto vivono letteralmente dentro la chiesa dentro la chiesa della Sacra Famiglia che è la chiesa latina dentro la chiesa di San Porfirio che è la chiesa greca e il senso è un po' il senso direi dell'incertezza del non riuscire a capire quanto durerà ancora questo tipo di conflitto e poi anche di un altro tipo di incertezza che cosa ci sarà dopo cosa succederà quando finiranno i bombardamenti e dal mio punto di vista anche un altro tipo di prospettiva che è quello del dire come si farà finito questo tipo di conflitto a far qualcosa per portare un po' di riconciliazione e quindi di pace vera perché la pace non è il cessate il fuoco la pace non è quando tacciono le armi ma la pace è un qualcosa di ben più profondo però ecco quando finirà lo scontro armato che cosa ci sarà che cosa si può realisticamente sperare credo che quello che lo stesso Papa Francesco ha chiesto più volte con insistenza cioè il passare da una forma di tregua che noi speravamo si prolungasse a un vero e proprio cessate il fuoco e successivamente a una fase in cui dar spazio a una soluzione politica che è ciò che è stato auspicato più volte sia dalla comunità internazionale sia all'interno della comunità internazionale anche dagli stessi Stati Uniti ecco questo al momento ancora non si vede però al tempo stesso io non vedo un'altra alternativa perché se non si arriva a una soluzione politica dopo tanta distruzione e dopo tanti morti vuol dire che non ci sarebbe nessun tipo di soluzione se non quella di una reciproca e completa eliminazione e in tutto questo i cristiani di Terra Santa prima abbiamo parlato quelli di Gaza ma non ci sono cristiani soltanto a Gaza come stanno vivendo e che tipo di contributo se stanno dando un tipo di contributo i cristiani di Terra Santa sono una comunità molto diversificata molto varia e di questo probabilmente non se ne rendono conto neanche gli altri abitanti della Terra Santa e men che meno quelli che vivono in giro per il mondo perché dico questo perché la maggior parte dei cristiani di Terra Santa che vivono tra Israele Palestina e Gaza sono cristiani di lingua araba e sono i discendenti delle prime comunità cristiane che non erano solo comunità giudeo cristiane ma erano anche comunità miste e quindi troviamo una forte componente della comunità cristiana che è di lingua araba e li troviamo in Israele li troviamo in Cisgiordania li troviamo a Gaza poi troviamo una componente di questa comunità cristiana che è di lingua ebraica e questi sono ovviamente in Israele vivono in Israele e di questa piccola comunità fanno parte sia ebrei che sono cristiani sia molti figli di migranti che si sono integrati nella società israeliana e che hanno come loro lingua normale di espressione anche a casa l'ebraico e quindi e poi abbiamo una componente della comunità cristiana che sono i lavoratori migranti che sono parecchie decine di migliaia e che fanno parte a pieno titolo della chiesa al punto che il patriarcato ha istituito anche un vicariato per i migranti e tra questi tanto per far comprendere la complessità tra questi ci sono anche dei giovani che prestano servizio militare nell'esercito israeliano e quindi abbiamo fedeli cristiani che fanno parte della stessa diocesi la diocesi patriarcale che si trovano a Gaza che si trovano a Betlemme in Cisordania che si trovano a Gerusalemme quindi una ferita anche dentro la comunità cristiana tra cristiani direi che ecco in questo caso grazie a dio la fede ci mantiene uniti e la guida anche pastorale direi saggia e prudente del cardinal Pizzaballa ci aiuta anche a mantenere una unità e una unità di prospettiva e ad andare oltre rispetto a quelli che potrebbero essere invece degli sbilanciamenti eccessivi di fatto la comunità cristiana è quella che può fare ancora e anche in una situazione così estrema almeno un po' da ponte almeno un po' da congiunzione tra le diverse realtà può farlo o lo fa? in alcuni casi lo fa in alcuni casi può farlo ma bisogna che ci siano le condizioni per farlo veniamo alla catechesi di oggi con la quale Francesco ha concluso il ciclo di riflessioni sullo zelo apostolico sentiamo le parole del Papa concludiamo oggi il ciclo dedicato allo zelo apostolico in cui ci siamo lasciati ispirare dalla parola di Dio e per aiutare a contivare la passione per l'annuncio del Vangelo e questo riguarda a ogni cristiano pensiamo al fatto che nel battesimo il celebrante dice toccando le orecchie e le labbra del battesato il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare ai muti ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede e abbiamo sentito il prodigio di Gesù l'Evangelista Marco si dilunga a descrivere dove è accaduto verso il mare di Galilea e cosa come questi territori esseri prevalentemente abitati dai pagani non erano territori abitati dai israeliani ma preferentemente dai pagani sono i discepoli con lui e che il Gesù è capace di aprire le orecchie e la bocca cioè il fenomeno del mutismo e della sordità nella Bibbia anche è metaforico e disegna la chiusura al richiamo di Dio c'è una solità fisica ma nella Bibbia quello che è sordo alla parola di Dio è muto che non parla alla parola di Dio quanto avverte oggi in Terra Santa questa sordità e questo è un mutismo rispetto alla parola di Dio che è una parola di pace indubbiamente in questo momento particolare la sordità è notevole ed è una sordità che non è neanche semplicemente rispetto alla parola di Dio è una sordità rispetto all'altro ed è una sordità che è data direi da un eccessivo coinvolgimento emotivo nei fatti avvenuti anche quindi sentimenti come rabbia rancore odio desiderio di vendetta portano alla quasi impossibilità di ascoltare l'altro questo se vogliamo lo vediamo anche nei nei Vangeli stessi quando Gesù viene condannato e processato e viene percosso lui sceglie la strategia del silenzio per far riflettere perché nel momento in cui le orecchie sono chiuse non servono le parole ma parlano di più i gesti faccio una domanda personale adesso dopo aver parlato del contesto anche politico e sociale della terra santa il papa dice che questa sordità è anche metaforica quando per lei c'è stato un momento appunto di apertura nella tua vita quando c'è stato per me direi fin da piccolo appartengo a una generazione che si alzava presto al mattino per andare a messa prima di andare a scuola quotidianamente e io ricordo che andavo a messa con andavo accompagnando mia mamma e andavo anche con due grandi desideri uno era relativo al poter ricevere Gesù come si diceva allora e l'altro era relativo anche proprio all'ascolto della parola di Dio e ricordo che nel mio paesino il parroco fin da quando ero alle scuole elementari siccome riuscivo a leggere abbastanza bene mi faceva anche leggere all'interno della celebrazione della messa e devo dire questo mi ha dato un bagaglio anche di parola di Dio che mi ha poi orientato e illuminato nel corso della vita ricordo che c'erano degli episodi poi che mi colpivano particolarmente per esempio mi colpiva molto la chiamata del piccolo Samuele questo bambino che nella notte sente una voce che lo chiama essendo anche un ragazzino degli elementari mi identificavo in questo bambino che sentiva questa voce che lo chiama quindi ti veniva a me succedeva di dire parla signore il tuo servo ti ascolta come rispose Samuele anche a te ma io leggevo ascoltavo la parola di Dio forse sarà una caratteristica dei bambini prima di tutto credendo che è realmente parola di Dio e poi identificandomi in quella parola di Dio che veniva raccontata per cui quando ad esempio anche pagine dell'Antico Testamento dicevano i nostri padri ecco io pensavo quelli sono i nostri antenati e per me era abbastanza normale naturale accogliere questa parola come parola di Dio e devo dire che ritengo questo una grazia anche una grazia particolare perché non ho mai l'ho studiata dopo necessariamente ma non ho mai dubitato che quello che noi leggiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento sia parola di Dio e in particolare poi chiaramente anche nelle varie fasi della vita diversi brani di Vangelo si sono anche impressi e mi hanno anche poi spinto a fare quella scelta di vita che ho fatto torniamo alle parole di Papa Francesco l'Evangelo riporta una parola decisiva di Gesù in aramaico e fatà che significa apriti che si aprono le orecchie che si aprono la lingua ed è un invito non tanto al sordo muto che non poteva sentirlo ma proprio ai discepoli di allora e di ogni tempo anche noi che abbiamo ricevuto l'Effatà dello Spirito Santo nel Battesimo siamo chiamati ad aprirci apriti dice Gesù a ogni credente nella sua Chiesa apriti perché il messaggio dell'Evangelo ha bisogno di te per essere testimonianzo e annunciato e questo ci fa pensare anche all'atteggiamento di un cristiano il cristiano deve essere aperto alla parola di Dio e al servizio degli altri i cristiani chiusi finiscono male sempre perché non sono cristiani sono ideologi ideologi della chiusura un cristiano deve essere aperto nell'annunzio della parola e nell'accoglienza dei fratelli e sorelli e per questo questo Effatà questo apriti aprirsi è un invito anche a tutti noi mi colpisce prima di tutto la sottolineatura del Papa che fa diventare praticamente coincidenti due cose che noi a livello concettuale distinguiamo l'ascolto della parola di Dio e l'apertura ai fratelli lui le lega in maniera indissolubile ma perché sono legate nel Vangelo quando noi leggiamo Matteo 25 la pagina che viene popolarmente conosciuta come giudizio universale tra l'altro una pagina molto cara a Papa Francesco e molto cara a San Giovanni della Croce che celebreremo domani è una pagina dove Gesù dice chiaro e tondo che lo incontriamo negli altri e quindi se è nel bisognoso che noi lo vestiamo che noi lo nutriamo che noi lo visitiamo che noi lo accogliamo questo vale per la parola questo vale per gli aspetti più concreti della vita e direi questo vale in generale per la categoria dell'amore non ci sono due amori l'amore per Dio e l'amore per il prossimo come due realtà separate perché la stessa scrittura San Giovanni dice se io non amo il prossimo che vedo e che è concreto come faccio a dire che amo Dio che non vedo se io non sono capace di ascoltare una persona concreta come faccio a dire che sono capace di ascoltare Dio è una pura e semplice fantasia a proposito di amore il Papa conclude la sua catechesi e questo ciclo di catechesi domandandoci se amiamo davvero Dio se ascoltiamo la sua parola premesso che tutti noi credenti abbiamo avuto un momento di innamoramento magari leggendo il Vangelo in chiesa da ragazzi da bambini come si coltiva poi questo innamoramento come tutte le relazioni bisogna avere una frequentazione costante e questo vuol dire che su tutti e due i versanti bisogna avere anche una certa regolarità una certa costanza nella vita cristiana uno non coltiva una relazione personale col Signore se non dedica quotidianamente dei tempi fissi alla preghiera se non dedica quotidianamente dei tempi fissi all'ascolto della sua parola del Vangelo e al tempo stesso uno non impara a rendere questo tipo di amore concreto anche nei confronti degli altri se non ama direi concretamente e singolarmente una alla volta le persone che incontra non è una cosa facile ma non è neanche una cosa complicata nel senso che è la singola persona di volta in volta che ha bisogno di essere ascoltata che ha bisogno di essere aiutata che ha bisogno di essere consolata che ha bisogno di essere incoraggiata che ha bisogno di essere curata eccetera eccetera e allora quello che uno direi coltiva nella relazione personale col Signore poi lo esprime anche nella vita di tutti i giorni ma questo vale per lo stesso Gesù i Vangeli raccontano che Gesù si alza presto al mattino per pregare che si ritira sul monte per pregare che si mette in ascolto costante delle scritture ma poi quelle scritture in certo qual modo le realizza proprio per strada quando incontra il sordo mutuo e lo guarisce quando incontra il lebroso e lo cura quando incontra la persona socialmente esclusa e la reintegra nella società il Papa oggi ha concluso il ciclo di catechesi sullo zelo apostolico la parola che è tornata più spesso in tutte le catechesi la parola testimonianza allora vorrei concludere anch'io con te oggi su questa parola qual è la testimonianza che i cristiani di Terra Santa così diversi variegati come ci hai spiegato stanno riuscendo a dare in questi mesi difficili di guerra io vorrei riportare proprio la testimonianza di un giovane parrocchiano della parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza è un giovane di 18 anni lui ha mandato diversi messaggi per far conoscere qual è la situazione che sta vivendo e particolarmente uno mi ha colpito di questi messaggi quando racconta che poco prima dell'inizio della celebrazione della messa gli arriva un whatsapp che gli dice che la sua casa è completamente distrutta e lui dice questo mi ha fatto capire che adesso la mia unica casa è la chiesa i cristiani a Gaza stanno letteralmente vivendo in chiesa e aggiunge in questa situazione dove continuamente sentiamo il rumore delle bombe sopra di noi dove non sappiamo se tra mezz'ora tra un'ora domani saremo ancora vivi quello che ho capito è che la mia vita è sicura e salva solo nelle mani di Gesù ecco questa è la testimonianza che dà un giovane in una situazione estrema molte altre sono le testimonianze di quelli che nonostante tutte le difficoltà continuano tenacemente a credere che sia possibile un futuro diverso anche in terra santa grazie padre francesco buon rientro a gerusalemme noi continuiamo a pregare insieme a papa francesco grazie per la pace ci rivediamo domani come sempre la 17.30 buona serata grazie